5, 4, 3, 2, 1 come le altre ultime due dove ci sono stati momenti di difficoltà però comunque da squadra siamo riusciti comunque a superiore a questi momenti anche da parte del gruppo è stata comunque una risposta positiva perché comunque eravamo andati in superiorità numerica poi comunque data la nostra espulsione però comunque abbiamo saputo soffrire e portare a casa questo punto che è fondamentale Ciao, buonasera Christian Volevo chiederti, tre partite, tre clean sheet su quattro gare che poi potevano anche essere quattro clean sheet come diceva Pagliuca prima perché quel gol di Bari crida ancora vendetta perché è un gol palesemente irregolare è un film già visto questo cambia il campionato l'anno scorso Serie C, quest'anno Serie B ma il minimo comun denominatore di questa squadra è sempre la solidità difensiva è sempre un vostro fattore fondamentale che quest'anno si sta perfezionando ancora di più perché state giocando contro squadre di caratura diversa quanto è grande il tuo orgoglio di far parte di un pacchetto difensivo una fase difensiva a cui partecipa tutta la squadra ma ovviamente voi difensori siete i principali protagonisti quanto è grande il tuo orgoglio di far parte di questa squadra in questo momento con i grandi risultati che stanno arrivando per voi del pacchetto difensivo soprattutto? Esatto, sono felicissimo perché comunque lavoriamo tanto anche in settimana per cercare comunque di tenere la nostra porta inviolata però comunque è vero come diceva lei dall'anno scorso il campionato cambia la qualità degli avversari cambia però comunque vedo che comunque la risposta anche a livello difensivo ma comunque parte comunque dagli nostri attaccanti perché è proprio un lavoro di squadra a livello difensivo nostro e penso che è davvero positiva la risposta di queste prime partite Ciao Cristian, buonasera Allora, potendo scegliere un'opzione è stato più un pareggio di testa o più un pareggio di pure? Sinceramente penso che ce ne abbiamo messi tutti e due sinceramente perché è vero poi il fatto dell'espulsione era in superiorità magari con un pochino più di testa potevamo evitare certe situazioni però comunque si sono create però la risposta è stata positiva perché comunque dopo anche loro che comunque stavano prendendo in mano il gioco e comunque noi siamo stati bravi comunque a compattarci e a mantenere il risultato Buonasera, sono Biaggi del Messaggero Volevo chiederle nelle vostre chiacchiere da spogliatoio vi siete fatto un'idea di quelle che sono secondo voi le squadre che possono puntare alla promozione se ci fai un numero ristretto adoramente e che voce potrebbe avere lo Juve Stabia in quest'ambito? Di squadre comunque agli occhi di tutti quali sono le principali che possono essere Salerno Salernitana Palermo ce ne sono parecchi come la Cremonese penso anche il Frosinone comunque un'ottima squadra penso che noi non sappiamo noi il nostro obiettivo comunque rimane sempre la salvezza però lavoriamo di settimana in settimana per cercare di dare il meglio di noi e fare più risultati possibili e quello che arriva meglio è Siamo felicissimi per comunque vedere un tifo del genere comunque anche fuori casa è vero a poche ore di distanza da Castellammare però vedere mille passatifosi il calore che ci hanno anche in campo la spinta che ci hanno dato è veramente fantastico grazie a tutti